Si è tenuta questa mattina una conferenza stampa congiunta CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. Comuni di Ascea, Camerota e San Giovanni Appiro, nel corso della quale è stato comunicato che con delibera di giunta regionale sono state approvate le proposte di variante agli interventi previsti per la mitigazione della crisi idrica dello scorso anno. Una notizia importante perché, grazie ad una serie di lavori, sarà possibile dare acqua alle comunità, evitando i problemi che si sono registrati negli ultimi anni, che hanno creato non pochi disagi per cittadini e turisti. Sì, assolutamente sì, sono tre importanti opere che si inseriscono in un discorso molto più ampio, che va a delineare una risoluzione un po' definitiva del problema idrico nel nostro territorio. Infrastrutture essenziali per dare approvviginamento idrico sufficiente alle esigenze dei tutelare tutti gli utenti del bacino del consorzio. Quindi questo dovrebbe scongiurare crisi idriche anche quando ci saranno emergenze di evidenze come quelle dello scorso anno. Ovviamente è un primo passo, un passo però decisivo, un passo importante, un passo essenziale e si arriverà ad una risoluzione definitiva di quelle che sono le problematiche più sentite anche attraverso una sostituzione delle tubature, che è poi la causa principale perché noi abbiamo perdite intorno al 50% e quindi a questo primo step, a questo primo intervento, ripeto, essenziale, in parte risolutivo, si è già avviata una progettazione e poi interventi successivi anche per la sostituzione delle tubature. Eh sì, parliamo a San Giovanni Appiro e Camerota di un pozzo per ciascuno dei due comuni, quindi un pozzo da realizzare alla frazione di Cusate di Camerota e un altro pozzo da realizzare a San Giovanni Appiro in prossimità del capoluogo. E poi alla Scea invece parliamo di un ampliamento significativo di un esistente impianto di potabilizzazione nella località Paino. Questi tre interventi saranno, diciamo, appaltati alla fine del prossimo mese perché sono in corso le attività di presposizione dei bandi di gara, quindi immaginiamo che la procedura potrà avere una conclusione fra circa un mese, un mese e mezzo. Per cui questo è stato possibile chiaramente grazie al finanziamento recentemente confermato dalla Regione Campania il 12 giugno con una delibera di giunta regionale che ha assegnato dei fondi, circa 800-900 mila euro tra tutti e tre i lavori. Quindi lo scopo di questi interventi qual è? Quello, innanzitutto, il pozzo di Camerota, di migliorare il servizio idrico a Camerota, capoluogo e non solo, perché consente questo lavoro di risparmiare risorsa del Faraone che attualmente va verso Camerota e purtroppo non riesce ad arrivare nella portata che serve per limitazione delle strutture acquedottistiche a servizio del centro abitato. Stessa cosa succede a San Giovanni Appiro dove per problemi di limitatezza delle strutture non riusciamo ad addurre nei periodi di massimo assorbimento la portata idrica necessaria. Per cui anche lì il pozzo attingerà una portata che presumiamo essere 15-20 litri secondo pari a quella che prevediamo possa essere munta anche a Camerota. Per cui questi due centri abitati beneficeranno di questi interventi. Ma non sono solo due centri abitati. Bisogna sottolineare che recuperando risorsa dall'acquedotto Faraone, altrimenti destinata ai due centri abitati suddetti, andiamo a migliorare tutti i centri abitati serviti da quest'ultima dottrice. Quindi parliamo di tutti i paesi della Valle del Mingardo, quindi da Torre Ursaia fino ad arrivare a Pisciotta, Ascea, eccetera.